L'obiettivo è identificare, acquisire e assassinare la preda prescelta. Evita di farti uccidere da parte templari. Inseguitore esposto. L'obiettivo, sei al comando. Contratto perso. Sei al comando. Inseguitore esposto. L'obiettivo. L'obiettivo. La preda ti ha esposto. Non ci si scontrava. Non ci si scontrava. Non ci si scontrava. La persona ha exposto La signatura ha exposto La signatura ha exposto La fredda ti ha exposto Morte onorevole 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 Massacro Morte onorevole Morte onorevole Inseguitore esposto Morte onorevole La preda ti ha esposto Inseguitore esposto Stornimento Vendetta Stornimento La preda ti ha esposto Uccisione contesa La preda ti ha esposto Il seguitore esposto La preda ti ha esposto Ti hanno stoltito Contratto perso Inseguitore esposto Inseguitore esposto Inseguitore esposto Inseguitore esposto La preda ti ha esposto Inseguitore esposto Inseguitore esposto Inseguitore esposto Inseguitore esposto Inseguitore esposto Grazie a tutti. Grazie a tutti.